La S salta il fosso, insegnavano le vecchie maestre delle elementari, non quelle della Lega Toscana che nella protesta scenografica contro la legge che definisce promigranti scivola subito sulla grammatica sbagliando la sillabazione. Riesce comunque a portare in aula 1200 emendamenti, sono 2200 con gli altri delle opposizioni, allo scopo dichiaratamente ostruzionistico di bloccare la legge. Loro stanno facendo un atto contro il governo, un atto contro il ministro Salvini, in realtà non pensano alle conseguenze di questo atto perché se noi offriamo tutte le prestazioni sanitarie come vogliono fare loro, rischiamo che tutti gli immigrati d'Italia finiscono in Toscana, la Toscana diventerà uno scivolo e potrebbe diventare il più grande centro di accoglienza d'Europa. Quindi oltre a questo abbiamo un altro tema che ci fa paura e ci non ridisce, troviamo all'interno di questa legge un'apertura e comunque è chiara la volontà di far rientrare dalla finestra quello che noi abbiamo fatto uscire dalla porta, cioè le cooperative. Anche Fratelli d'Italia porta in aula un suo show consegnando ai colleghi della maggioranza una dichiarazione in cui si impegnano a farsi carico personalmente dei migranti sulla scia dei crowdfunding privati lanciati per la Sea Watch. Io ho invitato ognuno di loro a fare la propria parte, se stanno da quella parte e pensano che la gestione dell'immigrazione possa essere fatta finanziando queste ONG o ospitando a casa loro i profughi, lo facciano. Il Movimento 5 Stelle è quello più parco di interventi, ma chiaro nell'esprimere la sua contrarietà alla legge. Siamo contrari a questa norma ipocrita, è una norma di propaganda che non aggiunge a nulla anche la scheda di legittimità fornita dagli uffici.